Ciao ragazze, voglio fare questo video veloce giusto per salutarvi, per dirvi ciao e visto che è da tantissimo comunque che non riesco a fare video sul canale allora volevo giusto salutarvi e il motivo è sempre lo stesso tra casa, lavoro, imprevisti e tante altre cose ho sempre difficoltà a organizzarmi e a far conciliare le cose quindi una di queste ne risente sempre e quasi sempre il canale per ovvi motivi, perché non posso decidere di non andare a lavoro non posso decidere di non dedicarmi alla casa o di non dedicarmi agli affetti personali comunque, forse col tempo riuscirò a imparare a organizzarmi meglio se avete qualche tritta datemela perché io non so cosa fare volevo anche dirvi due cose sui prossimi video già ho registrato due e anche lì devo semplicemente montarli e caricarli e ovviamente anche questo è data semplicemente di trovare quei 30 minuti di tempo libero per poterlo fare uno è della serie Real e praticamente ci sono io che cerco di fare la mia torta di compleanno una crostata ai frutti di bosco che dall'altro è venuta buona e molto molto bella strano ma vero anche se per tutta la durata del video tranne l'ultima parte quando si vede bella finita non lo direbbe nessuno che è buona comunque che è fatta meglio però era buona nessuno è andato in ospedale e era buona posso garantire io e quindi quel video lì che un po' mi vergogno a caricarlo ma vabbè devono essere reali e quindi meglio così ok l'altro video invece riguarda la collezione autonale della Pupa i miei capelli sono un disastro la collezione autonale della Pupa che sicuramente già avrete visto in profumeria e anche qui ovviamente io sono in ritardo arrivo sempre per ultima e vi dico un po' cosa ne penso dei vari prodotti eccetera eccetera anche questo l'ho già registrato quindi entrambi i video cercherò di montarli stasera spero poi per quanto invece riguarda i prossimi video un video che voglio fare assolutamente continua a scivolare il computer perché l'ho appoggiato sul divano e scivola vabbè riguarderà sicuramente il regalo di compleanno che mi ha fatto mia sorella che sono praticamente dei cosmetici naturali per la cura della pelle per la cura della pelle e dei capelli altrimenti mi fanno il culo per le donne e sì farò questo video in cui vi parlerò di questi prodotti naturali perché voi dovete sapere che è quasi un anno che ho iniziato ad usare prodotti naturali solo ed esclusivamente prodotti naturali per quanto riguarda i miei capelli e la mia pelle ed è una decisione che ho preso aia ed è una decisione che ho preso in seguito ad un problema che si è verificato sul mio cuore capelluto ossia la dermatite io non so se c'è qualcuno di voi che ne soffre o ne ha sofferto in passato comunque è una cosa terribile è una cosa che proprio mi sta creando molti 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 problemi ed è molto molto difficile da curare da riuscire a farla andare via comunque per il momento visto che devo andare dal dermatologo il 22 ottobre per il momento io ho deciso di usare solo ed esclusivamente prodotti naturali e ne ho provati diversi in tutti questi mesi perché diciamo che io ho iniziato ad usarli da novembre dell'anno scorso quindi praticamente quasi un anno quindi vi parlerò un po' di quelli che ho provato di questi e e dei prodotti invece naturali per la cura della pelle e sui prossimi video ovviamente farò un tutorial visto che anche quello è da tantissimo che che non riesco a farli perché sono quelli un po' più lunghi quelli un po' più complicati da organizzare e e spero di riuscire a farlo nel fine settimana fine settimana intendo gioventi e venerdì perché poi lo sabato e domenica vado giù a Bologna da mia sorella e basta cos'altro posso raccontarvi non ho tante cose da dire perché diciamo non sto facendo altro che andare al lavoro tornare a casa occuparmi della casa e occuparmi di tante altre cose quindi non ho grosse novità non so da quanto tempo è che non vado fuori a fare shopping o cose del genere è un periodaccio e via insomma capita comunque ci vediamo la prossima volta un bacione a tutte e ciao ciao Grazie.